segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te deve fare marco travaglio mi dici che strategia sta portando avanti la destra in rai la cosa più vecchia del mondo la lottizzazione ha fatto molto bene zaccaria a ricordare che è stato renzi a consegnare nelle mani proprie e anche dei propri successori il potere assoluto del governo sulla rai cioè su un bene comune che i partiti non dovrebbero nemmeno toccare nemmeno sfiorare anzi non dovrebbero nemmeno poterlo sfiorare io però mi sono un po stancato di piangere a ogni lottizzazione perché fino a quando non cambia la legge il governo rispetta la legge purtroppo questo governo sta rispettando la legge la tragedia qual è è che questa legge affida al governo non solo il potere di vita o di morte sulla rai ma affida al governo anche l'eventuale buon cuore nei confronti delle opposizioni ci sono dei governi che hanno lottizzato classicamente la rai lasciando caselle alle opposizioni ed è il caso del governo conte del governo miloni e poi ci sono dei governi che hanno preso tutto il governo renzi prese tutte tre le reti e tutti e tre i telegiornali il governo draghi idem sotto il governo draghi siamo arrivati all'assurdo che tolsero addirittura il posto all'unico partito di opposizione cioè fratelli d'italia nella consiglio d'amministrazione e il partito che aveva vinto le elezioni e aveva la maggioranza relativa in parlamento non ebbe niente nella lottizzazione perché era una draghizzazione come quella di renzi era una renzizzazione oggi assistiamo non a una melonizzazione ma un ritorno alla lottizzazione classica oggi d'agospia ha fatto il calcolo che tra le poltrone che sono state distribuite oggi fratelli d'italia ne prende 5 la lega 7 forza italia 3 il movimento 5 stelle 3 e il 9 e si permette pure il lusso di votare contro e di gridare alla lottizzazione come se le poltrone lottizzate dagli altri fossero brutte e le sue le avesse portate la cicogna per questo io non riesco più ad appassionare io ho finito le lacrime non me ne frega più niente chi vuole combattere la lottizzazione fa qualcosa per cambiare la legge che è quella che ricordava zaccaria la legge gasparri riveduta e corrotta dal governo renzi che ha passato dal parlamento che già non dovrebbe toccarla la rai al governo peggio mi sento il potere assoluto di nomina questo è quello che sta accadendo e questo quello che sta accadendo giovanna vitale tu ti